bello a tutti ragazzi bentrovati in questo nuovo vlog oggi siamo qua per il terzo vlog e oggi è il momento di sponsorizzare questo canale pro gamer youtube che mi ha fatto la intro e quindi lo ringrazio molto anche se non era le mie aspettative perché comunque io gli avevo detto di farmi quel tipo lì stanto che lui non avendo un programma non è riuscito a modificarla che era questa qua che volevo io ah no no non era questa scusate era questa qua che volevo io ma beh fa lo stesso questa qui vabbè fa lo stesso e niente quindi volevo quella roba lì ma lui mi ha fatto un altro tipo ma comunque era sempre lo stesso eccola qua questa si era e c'ha tanti effetti ed era proprio per quello invece la mia nuova intro è questa qua quindi lo ringrazio ha fatto un ottimo lavoro bravo e quindi mi aveva chiesto di sponsorizzarlo io ero già iscritto al suo e anche anche già avetevo o seguivo già anche la sua serie di Minecraft e niente quindi questo è il canale io vi lascio il link in descrizione passate iscrivetevi perché la serie di Minecraft è davvero bella quindi complimenti anche a loro e niente peccato solo perché non avrebbe fatto quello ma comunque l'intro è già bellissima e la ringrazio avrebbe solo questi effetti ma adesso sto tentando di vedere se un mio amico riesce a modificarmi il template con Adobe After Effects che io non avendolo e non essendo capace diciamo non mi cimento neanche e niente quindi questa è la sponsorizzazione e quindi complimenti grazie ancora per la intro e niente quindi come sempre vi lascio il link in descrizione del suo canale passate lasciate un bel like ai suoi video guardateli anche se volete e niente quindi anche iscrivetevi e niente per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un bel like commentate e iscrivetevi al canale soprattutto grazie ciao ciao